Io viaggio verso Cesena e con me c'è l'irreprensibile Cesare! C'è lo zainetto del cerbero come i bambini delle medie In autogrill ho preso questa, è caffè con il latte, ghiacciato Porca puttana! È veramente come se uno avesse fatto il caffè e poi se lo fosse dimenticato in frigo Cioè non so bene come spiegarlo però io mi aspettavo che fosse gasata questa Io sono tuo padre Maledicendolo con la scomunica con la quale Giosuè mise al bando gerico Sei all'altezza per la felicità Recensione a caldo, ti ho spaventato a sufficienza Bellissimo, molto d'impatto Molto d'impatto significa che sta pensando di querelarmi No, no